Cosa è l'integrazione? Chi sa? Si però dottoressa Dottoressa se l'altro ci avessi detto voglio 10 milioni di euro allora noi con quello no, no, ma questa era la realtà per questo noi siamo usciti fuori dalla maggioranza per questo noi ci siamo diversi d'assessore perché queste atteggiamenti queste responsabilità non le abbiamo mai condiviso e purtroppo io le devo dire abbiamo scritto al dottore Iagruzzo dove gli stavamo anticipando per filo e per segno quello che sarebbe successo fra 4 anni gliel'abbiamo detto in campo purtroppo noi da tutti gli enti che abbiamo sollecitato non c'è stato uno che ci ha dato ragione o quantomeno che ci ha scritto e ci ha detto in maniera analitica avete tolto siamo stati ignorati però gli atti parlano e gli atti li conserviamo abbastanza gelosamente grazie a tutti grazie a tutti